Giornata di lutto preventivo nel centro storico di Padova, circa 200 negozi hanno aderito all'iniziativa di Ascom Conf Commercio. In questa giornata di venerdì nero delle tasse, entro questa sera infatti si dovrebbe pagare la Mini Imu e la Tares, i commercianti hanno deciso di protestare ed hanno affisso sulla porta dei loro negozi un fiocco nero in segno di lutto accompagnato da questa locandina dove possiamo leggere giornata di lutto preventivo per non dover morire di tasse, tasse altissime, tasse astruse, tasse vessatorie e per giunta nemmeno chiare. Il 18 febbraio appuntamento a Roma con Pullman dell'Ascom per chiedere misure più incisive per le imprese. Grazie a tutti.